Ho scelto di frequentare il corso in gestione strategica dell'economia circolare per alimentare con nuove competenze il mio interesse verso la sostenibilità. Ho acquisito delle competenze relativamente alla misurazione del livello di circolarità all'interno delle aziende attraverso la caratterizzazione di materiali e processi in una logica di tracciabilità della filiera. Ho acquisito poi delle competenze relativamente ai bilanci di sostenibilità. Sono stati previsti dei momenti di gruppo con gli altri partecipanti, sia di confronto che di lavoro, relativamente a delle tematiche presentate dalle aziende che hanno collaborato. Ritengo che siano stati un ottimo banco di prova per testare le competenze che avevo già e quelle che ho acquisito durante il corso, nonché un'occasione per poter ampliare la mia rete professionale. Se dovesse descrivere il corso in un'unica parola direi equilibrio. Nell'ottica di ampliare i cicli di vita di materiali e processi e applicare l'economia circolare nel lungo periodo è necessario che la sfera sociale, ambientale e produttiva siano in equilibrio. E quindi penso che questa parola possa rappresentare al meglio questa esperienza.